Parliamo della ministra Roccella, ministra per la famiglia, per la natalità e per le pari opportunità, che ha lamentato di essere stata censurata agli stati generali della natalità. No, io non penso che sia censura. La censura è qualcosa che avviene necessariamente dall'alto verso il basso. Lo dicono le nostre leggi, lo dice anche la Costituzione, è lo Stato che agisce una repressione dell'opinione pubblica, della libera espressione dei cittadini. Nel caso di Roccella si è trattato di una contestazione. I cittadini dove e come possono far sentire la loro voce se non nel momento in cui la ministra o qualunque esponente delle istituzioni si presenta in pubblico per esporre delle sue idee? Quello è il posto della contestazione, quello è il posto del dissenso. Chi assume un ruolo istituzionale ufficiale deve imparare a gestire il dissenso.